Il programma VX4, il drone europeo romale, il drone ad energia solare sono sicuramente dei progetti fantastici, ma quali le ricadute per Grottaglia nel breve periodo, nel secondo semestre del 2022? Per il PD cittadino sembra che si stia dimenticando il prezzo della grave crisi che sta pagando duramente lo stabilimento grottagliese. Con 1049 lavoratori in cassa integrazione per tre mesi, sorgono spontanee dunque alcune domande. Quando la cassa integrazione ordinaria finirà, quale sarà nel breve termine il destino di questi operatori, delle imprese e dei lavoratori dell'indotto? La tecnologia del volo elettrico a decollo verticale, corto appunto il programma VX4, sarebbe ancora nella fase di ingegnerizzazione, sperimentazione e autorizzazione. Per arrivare alla fase di produzione industriale a regime potrebbero occorrere anche molti anni ed è ancora il PD che si spinge oltre. È vero, dichiara, che le quotazioni in borsa alla luce di queste notizie sono aumentate. Verrebbe dunque il sospetto che l'obiettivo di questi annunci sia il mercato azionario e non l'occupazione per il progresso e lo sviluppo del territorio, concludono.